Visti? Sempre finita gara 2 e QX3, si stanno allenando la QX2, siamo con Nicola Sangeli, terzo posto di giornata, quarto posto in gara 1, terzo posto in gara 2. Grande Nicola, grande prestazione, abbiamo visto un'ottima resa fisica, un'ottima tenuta, una difesa della posizione e due ottime gare. Raccontaci là dentro il tuo caso. La gara era difficile perché la pista è piena di bus e ero molto stato nella seconda mancia e mi stavo per arrivare in quattro, però ho tenuto per fare il terzo. Fatto una bella lotta comunque, tutte e due le mancia, serratissime dal primo all'ultimo metro. Sì. E per le prossime dell'italiano a settembre? Penso di fare ancora il terzo. Come no? Non provi ad attaccare Sciolpi e Valeri? Eh, non ce la faccio, sono più potenti. Ma il gas in partenza è sempre? Per la scorsa gara? Ah, ma netto, poi dopo devi vedere te cosa fai. I nostri complimenti, sei stato veramente bravo. Vuoi salutare qualcuno? Ciao. Nicola, sei un grande. I nostri complimenti, terzo posto all'italiano. Nicola Sangeli. Ciao. Ciao.